Caressa ritiene che il Napoli sia una squadra di gran lunga superiore alle altre e al campionato italiano. Prima di procedere vi do il benvenuto sul canale Inter News, iscrivetevi e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle news quotidiane dell'Inter. Andiamo alle news. La partita dell'Inter a Genova contro la Sampdoria è stata sicuramente deludente. 1-0-0 noioso che non serve a nulla se non a invischiarsi ancora di più nella lotta per la Champions League. Ma con una sola nota positiva da portare a casa. Come dicono i saggi, dovremmo sempre cercare di ottenere qualcosa di positivo anche dalle brutte esperienze. È il caso dell'Inter che, dopo 1-0-0 fiacco e deludente a Genova contro la Sampdoria, cerca una nota positiva a cui aggrapparsi. È arrivato parzialmente. Perché per la prima volta in campionato l'Inter di Simone Inzaghi ha chiuso fuori casa senza subire gol. Non era ancora successo in questa Serie A. Il problema è che allo stesso tempo non è arrivato il gol che avrebbe garantito la vittoria in casa. Un aspetto su cui bisogna lavorare. Ehi tifoso nerazzurro, lascia il tuo mi piace per restare aggiornato sulle notizie Inter. Continua. Icaressa ritiene che il Napoli sia una squadra di gran lunga superiore alle altre e al campionato italiano. Il pareggio dell'Inter a Genova allarga ancora il distacco a 15 punti. La differenza rispetto al primo posto è ancora maggiore. Azzurri ora ha più quindi. Parole di caressa. L'Atalanta è la squadra che gioca meglio per chi lotta per la Champions League. Dopo il pareggio dell'Inter non si può smettere di parlare dello scudetto del Napoli. 15 punti sono tanti. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario. Una delle più grandi sorprese di sempre. Il distacco dal resto è così grande che il Napoli potrebbe giocarsi un altro campionato. Sei d'accordo con le parole di caressa? Pensi che il Napoli sia migliore dell'Inter? Lasciate la vostra opinione nei commenti, lasciate il vostro mi piace e iscrivetevi al canale. A più tardi tifosi nerazzurri.